Sensibilizzare il sistema bancario affinché si faccia promotore di atti di rimborso volontari ai risparmiatori da non considerarsi agli utili Stato. È la richiesta fatta ieri a Roma dal Comitato dei Risparmiatori di Pizzoli di Banca Etruria. Nel popoloso comune dell'Aquilano, infatti, sono più di mille risparmiatori che per effetto del decreto salvabanche sono rimasti senza soldi. A Roma, il portavoce dei Risparmiatori di Pizzoli, Domenico Iannucci, ha incontrato il direttore generale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Consob, Angelo Apponi, e il segretario generale Guido Stazzi, a margine della piccola protesta alla quale hanno partecipato centinaia di cittadini truffati. Il sistema bancario per Iannucci deve farsi carico dei rimborsi perché per loro si tratta di piccole cifre, per la gente invece sono i risparmi di una vita. I risparmiatori hanno parlato di truffa anche relativamente alle ultime obbligazioni del 2013, perché hanno detto che se c'erano problemi la banca doveva essere corretta e dunque è mancata anche la comunicazione.